Il successo del fronte nazionale alle elezioni amministrative francesi è un dato che ci deve assolutamente far riflettere perché vuol dire che le forze populiste e anti-europeiste che si alimentano con la paura e che si alimentano con la paralisi della politica possono avere solo una risposta che è quella di accelerare in Italia il processo di riforme. Accelerarlo intanto per essere credibili agli occhi degli italiani e poi per poter costruire a Bruxelles un'Europa non solo del rigore ma anche della crescita e della solidarietà.